È uscito Armageddon Time, l'ultimo film di James Gray, un cineasta importante che esordisce nei primi anni 90 in anni in cui assistiamo all'avvento di una certa idea di postmodernismo che ha in Tarantino un iniziatore con tutto un codazzo di epigoni più o meno ispirati. Gray va in una direzione completamente diversa se non opposta. Adesso dopo tanti anni che sono passati, ricordiamo il titolo del suo primo film, il suo esordio Little Odessa con Tim Roth e Maximilian Schell, un film che mi piacerebbe rivedere, non vedo da molti anni. Adesso che sono passati anni, che sono passati film, sembra quasi di assistere al tentativo di rifare un certo cinema che era quello della United Artists degli anni 70. Lo stesso Gray ha indicato come un momento fondante della sua vita di cinefilo sia stata la visione del padrino di Francis Ford Coppola. Coppola, d'altra parte, viene evocato anche in film nel minore, c'era una volta a New York e nel bellissimo Civiltà perduta, che è un po' una sorta di Apocalypse Now in sedicesimo, diciamo così, e sono film in cui, peraltro, secondo me risuona anche la lezione di Michael Cimino. In Civiltà perduta c'è una scena in cui Charlie Hannan parla, tiene una conferenza, e la scena in qualche modo è girata e montata, richiamando il discorso di Joseph Cotton nei Cancelli del Cielo, proprio in termini di sintassi di montaggio. Questo Armageddon Time si colloca in una voglia di rielaborare e riscoprire i generi che Gray tutto sommato ha portato avanti negli ultimi anni. Ha fatto, non so, il suo film d'amore, il suo Melo, con True Lovers, che è uno dei suoi film più belli, Il Poliziesco con I Padroni della Notte, altro film minore, ma comunque con forti elementi di interesse. Ad Astra, che secondo me è un meraviglioso film di fantascienza, che allo stesso tempo replica nel decor fantascientifico il canovaccio di Cuore di Tenebra di Conrad, e non dimentichiamoci che Cuore di Tenebra, come sappiamo, è alla base ancora di Apocalypse Now. E poi con questo Armageddon Time, ecco che abbiamo una sorta di... Nello stesso anno in cui Spielberg licenzia il suo Amarcord meraviglioso con The Fablements, ecco che James Gray in fondo fa un film che ha molti punti di comune con questo, non so quanto ci sia di autobiografico, ma credo ce ne sia molto, ed è un The Fablement stampato in negativo, potremmo quasi dire, perché James Gray ci dà un film veramente di raro pessimismo, un film molto molto cupo, molto bello secondo me, al quale forse qualche taglio avrebbe giovato, specie quando in modo così secondo me un po' retorico mostra i sogni del ragazzino di diventare un artista, però ho un parere molto personale, però ci ho detto un film prezioso, perché ci racconta l'amicizia di due ragazzini, uno stiamo parlando di gente che fa, adesso le scuole medie presumo, non so bene come funziona il sistema scolastico americano, comunque ragazzini sui 12-13 anni, uno è un ragazzino di origine ebraiche, benestante, un privilegiato in qualche modo, e l'altro invece è un ragazzo nero, orfano, vive con la nonna e la sua situazione familiare e sociale è assolutamente a rischio, perché potrebbe essere affidato agli assistenti sociali di lì a poco, ovviamente poca voglia di studiare, rapporto conflittuale con la classe, ed è anche ripetente. L'amicizia sincera, affettuosa di questi due ragazzi viene messa a dura prova dalla società e dalla famiglia, e quello che ci racconta subito e in modo veramente crudele James Gray è la discriminazione, la discriminazione del ragazzo nero e invece l'eccessiva tolleranza e la fiducia gratis cui viene investito il ragazzo bianco ebreo, pur venendo la sua famiglia da una, diciamo così, una tradizione proprio di discriminazione terribile, che è incarnata in qualche modo dalla figura del nonno interpretato come al solito magistralmente da Anthony Hopkins, che è un po' la testimonianza del passato, quindi la Shoah, la Seconda Guerra Mondiale, eccetera, eccetera. Siamo tra l'altro, il film è ambientato, non l'ho ancora detto, ed è fondamentale, ambientato nel 1980 alla vigilia della presidenza Reagan con tutto ciò che si porta dietro in termini proprio di recrudescenza conservatrice. E alla fine, quello che è un po' la molla del film, per sfuggire, diciamo così, alla cattiva influenza di questo amico, viene il protagonista, viene mandato praticamente in una scuola privata, retta da Fred Trump, il padre di Donald Trump, quindi, insomma, da questo punto di vista c'è anche forse un po' di programmaticità, insomma, nel film, ma che non guasta il risultato finale, e proprio questa cosa, poi il film si chiude con un discorso di Fred Trump, che è interpretato poi da John Dillon, caratterista americano, che io me lo ricordo nella grande serie TV The Shield, e insomma c'è un finale veramente bellissimo, proprio bellissimo, che non svelo, insomma, ma non è poi uno dei finali a sorpresa, insomma, non toglierebbe nulla dal film, comunque non lo svelo, insomma, che rappresenta anche un po' una scelta del protagonista. E in tutto questo c'è anche un gusto ultracinefilo, perché poi quello che è un po' l'escamotage che porterà il film alla sua conclusione amarissima, è anche una citazione, una citazione dei 400 colpi, la scena in particolare del furto della macchina da scrivere da parte di Antoine Duanel, cui i due ragazzi rubano un computer, ma viene citato anche il dialogo di Duanel con gli psicanalisti, insomma, è un'altra citazione che viene fatta all'interno del film. Quindi un film veramente cupissimo per quello che racconta, per come racconta soprattutto anche la, se vogliamo, la sconfitta sociale di una famiglia, quella del protagonista che si vorrebbe emancipata, che si vorrebbe una famiglia progressista, insomma, dalla parte dei ceti più deboli, ma che poi quando si tratta di fatto di fare scelte che possono salvare o condannare chi è più sfortunato, allora scelgono, chiaramente, da un lato magari può essere anche comprensibile, scelgono naturalmente di preservare il benessere del proprio figlio, però a detrimento della vita altrui. E questa cosa, insomma, pesa come un macigno, perché all'interno appunto di discorsi così assolutamente progressisti, benevolenti nei confronti di chi è più sfortunato, poi però alla fine quando si tratta di guardare al proprio interesse lì non si fanno sconti a nessuno. Quindi il discorso di James Gray è coraggioso e di una sincerità disarmante, ma anche di un pessimismo come raramente se ne vede nel cinema americano e, devo dire, quando si vede spesso dietro c'è proprio la mano di James Gray. Tanto vi dovevo, vi auguro una buona giornata.